Intanto registriamo Ok Dunque dovremmo esserci Quindi se ci sono Dubbi o domande Intanto che si collegano Le varie persone E potete iniziare a chiedere A scrivere sulla chat e così via E magari le riporto qui per vostra comodità Come ho visto che fa anche Il corso in inglese O se volete intervenire A voce Dovreste poterlo fare Siccome Ho cliccato Che potete Anche utilizzare direttamente Il microfono E la condivisione Dello schermo Spero che mi sentiate Se qualcuno mi da un feedback come sempre È molto apprezzato Sì Perfetto Grazie mille Dunque Queste sessioni Come sapete Forse vi siete già collegati in passato Servono principalmente per avere La possibilità da parte vostra Di porre domande Non spieghiamo niente di nuovo Non spieghiamo niente di nuovo Sono registrate per comodità Perché Qualcuno magari potrebbe avere problemi A sentirle E desidera sentirle e così via Però In realtà sono Diciamo un extra Rispetto al corso Che è un po' Facoltativo Nel senso che Non spieghiamo niente di nuovo Se voi sapete già Tutto E avete capito tutto Di per sé Queste Queste sessioni Servono Diciamo A poco Nel momento in cui facciamo qualcosa di più Che dovesse essere importante E che tutti devono conoscere Ovviamente ve lo diremmo Con il dovuto anticipo Dunque potrebbe C'è una domanda sulla chat Potrebbe fare degli esempi Sull'uso dei moduli Certo Facciamo qualche esempio Quindi Questa è la domanda Solo per comodità Ve la riporto qui Perché così Resta anche nella registrazione Che stiamo facendo Dunque L'uso dei moduli E' un po' Ostico all'inizio In effetti Il problema principale Dell'uso dei moduli E' Magari prendo le slide E' che Ehm Sides Scrivete Due Classes Dovrebbero essere queste qua Ehm Ok Ok Il problema E' che ci sono due modi Di usare i moduli Uno è quello Diciamo standardizzato E uno è quello di Node.js Quindi Prima di tutto Dovete capire In che situazione siete Se siete Sul server Perché stiamo usando Node Però in questo momento Non lo stiamo facendo Lo facciamo poi Per la prossima lezione Allora potete usare Questo require Che abbiamo intravisto Nella primo laboratorio Che ci serviva Per la readline sync E così via Però credo che a voi Interessi in questo momento Di più La questione Dei moduli Diciamo nel browser Purtroppo Fino a che non abbiamo Un server Non riusciamo A Usare i moduli Un server web Non riusciamo A usare i moduli Con import e export Nel browser Ok Il prossimo laboratorio Dunque no Abbiamo detto Sì Il prossimo laboratorio Se non sbaglio Dovrebbe invece Consentirvi di farlo Perché introduciamo Un server web E' molto semplice Basato su Node Quindi Cosa potete fare In questo momento Per usare i moduli Come viene chiesto Nel laboratorio Per esempio Il moment.js E' di fatto Una libreria Un modulo Che vogliamo utilizzare Bisogna Prendere Scaricarselo E importarselo In questa maniera Vi faccio vedere Nel viso studio code Nel momento in cui Vogliamo usare Un modulo esterno Che vuol dire Fondamentalmente Una libreria Qualcuno che ci ha Scritto qualcosa E noi abbiamo Bisogno di usarlo Dobbiamo fare Quest'operazione Cioè Purtroppo Non abbiamo Alternativa In questo momento Dobbiamo Scaricarlo E poi Caricarlo Con script SRC Uguale Non possiamo fare Quello che c'era scritto Sulle slide Sulle slide C'era scritto C'era scritto Di fare Tutta quell'operazione Di Import Quindi fare import Eccetera Però per fare ciò Dovevamo scrivere Script type module Se scriviamo Script type module In questo momento Quando carichiamo I file del file system Come le prove Che stiamo facendo Non funziona E quindi Fino alla prossima Il prossimo laboratorio In cui introduciamo Un server web Minimale Che risolve Questo problema Perché I file saranno Tutti serviti Dal server web Non localmente Caricati dal browser Allora In quel momento Lì si risolve Il problema Quindi Riassumendo In questo momento Per Caricare un modulo Dobbiamo scaricarcelo Che non è la soluzione migliore Però Diciamo La soluzione Che in questo momento Funziona Quindi Proviamo a farlo in diretta Dunque Abbiamo il nostro Moment JS Download E dobbiamo andare A scaricarcelo Moment JS Quindi c'è il Moment JS Ci scarichiamo Decidete Se volete La versione Quei locale O no Quindi se volete La versione Diciamo solo Solo inglese O no E ci facciamo Dunque Perché non si vede Perfettamente Quello che sto facendo E condiviso Sì Ok C'è un po' di ritardo Nella In quello che facciamo E quindi facciamo Save As E E E Gli diamo Il nome Moment JS Min Save E Fine Ce lo mettiamo Da qualche parte Un po' lento Questo Ok E poi Andiamo A prenderci E andiamo A prendercelo Dove l'abbiamo Messo E lo importiamo Con script SRC Fine Questa è l'unica Soluzione Che abbiamo Al momento Purtroppo Dico Purtroppo Nel senso Che Dobbiamo fare Questo passo In più Dello scaricamento Ma di per sé Insomma Scaricamento In più Di introduzione Di una riga Script Nel Nel HTML Che ci serve A caricare Il corrispondente JavaScript Se Avessimo Un server web Ma ce l'avremmo Solo dalla prossima Settimana Dal prossimo laboratorio Potremmo Potremmo Caricare Come abbiamo visto Sulle slide Script Type Uguale Module I nostri E script E nel nostro Type Module Fare Il nostro Import E Quindi Import E chiaramente Da qualche parte Dovremmo Poi aver caricato Diciamo Il Diciamo Il nostro Modulo Quindi dovrà essere Installato sul server Per esempio In maniera Molto Molto Semplice Quindi spero che questo Risponda Alla domanda Del vostro collega Il modo alternativo Di gestire i moduli L'avete Già visto Ed è quello Che abbiamo usato Nella prima Nella prima Laboratorio Però Lavoravamo dentro Node.js Ed è quello di Fare npm Quindi Farselo Scaricare E poi Fare require E fine Questo è l'altro Modo Però questo Non serve Per usare i moduli Nelle pagine web Perché Dobbiamo fare in modo Che il modulo Sia caricato Nella Pagine web Ok Dunque C'è poi Un'altra domanda Adesso arrivo a leggere Una domanda Dunque Facendo in questo modo Come facciamo ad usare Ad esempio Nel file main JS Un oggetto definito In un altro file App JS Dunque App JS Ok Main JS Non è che deve Semplicemente Ecco Qui abbiamo Una specie di Bots di soluzione In realtà Non è ancora pronta È la soluzione Per il laboratorio Di domani Vedete che è suddivisa In più file Uno è quello Il moment.js È quello lì Che abbiamo scaricato È il min Quindi Diciamo Non si riesce a leggere Ma va bene così E poi La soluzione è stata divisa In tanti altri pezzetti Tra cui Come diceva lei App.js Per esempio Abbiamo definito Una classe Main In cui Facciamo ben poco Però usiamo L'oggetto app Da dove arriva Questo oggetto app Dal App.js Bene Dobbiamo solo Avere l'accortezza Nell'HTML Di Caricare Gli script Correttamente Quindi il main Quello che usa Gli altri È caricato In fondo Ok Quindi Come faccio E semplicemente Non è che deve fare Fa tutto Il sistema Nel senso che Nel momento in cui Io carico Più 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 No Io In App.js Definisco la classe App L'ho caricata Quindi la carico qui In App.js Prima di dove la uso Del main E poi nel main La uso Fine Ok Altra domanda Cerco di Non scortarmi Di copiare le domande Qui Ah Non mi va a capo Adesso Uno pensa sempre Di aver trovato Una soluzione Più Innovativa Più C'è sempre Qualcosa Ok Io ho provato a usare Modul export E modul require Lasciando il programma GIS da visual studio E lì non mi dava Problemi E si Nel visual studio code Diciamo che può Può fare Quest'operazione Perché il visual studio code Supporta Sostanzialmente Entrambe Le modalità Anzi In realtà Quella che supportava E' sempre supportato E' quella del No scusate Nell'import Vero come diceva Import No Modul export E modul require Si Con require Il require E' la modalità Che ha sempre supportato Perché Perché Il node.js E' basato Scusate Il visual studio code È basato su node.js Node.js Ha sempre supportato La sua modalità Diciamo Quella del common.js Che è quella che Scrive require Quella che abbiamo visto Nella primo laboratorio Il problema Il problema Non è far funzionare Ecco Questa del common.js Corre Require Il problema Non è far funzionare Questa In visual studio code Questa funziona Questa lo sappiamo Il problema È quando Volete usare Lo stesso approccio In un file.js Che poi volete Caricare nel browser E allora Quella si Quello è un problema Perché Appunto Non Non Diciamo È complicato Da fare Il browser Di default Supportano Questo meccanismo Più standardizzato Import export Però C'è questo problema Dei file serviti Localmente Quindi Se sono Serviti da un web server Va tutto bene Se sono serviti Invece Dal file system Quindi Il browser Che si ricarica Dal file system C'è un problema Che Diciamo Il browser Di default Non consente A Altri File.js Di accedere A vicenda E quindi Non Per una questione Che studieremo Poi più avanti Una questione Che deriva Da problematiche Di sicurezza Tendenzialmente Nessuno usa Un browser Per caricare File Locali E vengono Sempre da un server Web E quindi Tutto il meccanismo Di gestione La sicurezza Del server Web E del browser Orientato A interagire Con dei server Web E purtroppo Diciamo Questo crea Un problema Con i file Locali Che Diciamo Non è superabile Se non Mettendosi Un piccolo Server locale Come faremo Nella prossima Laboratorio E da lì in poi Continueremo Ad usarlo Dico solo A chi chiamava Che è una persona importante Ok Quindi spero Che vi sia chiaro Diciamo Si chiarirà Ancora di più Nel prossimo Laboratorio Nel senso che Di fatto Si risolveranno Molti problemi Quindi Certi problemi Arrivano Perché appunto Facciamo esperimenti Estremamente semplici Al di fuori Del contesto Proprio Più realistico Ok E' necessario E' necessario creare Proprio una classe app O va bene anche Dichiarare app Come funzione E poi farla eseguire Nel main Ma va bene anche Farla eseguire Nel main Cioè Nel momento in cui Utilizzate Un approccio Di programmazione A Oggetti Chiaramente Dovete un po' Decidere voi Quando vale la pena Creare Una classe Anche se Abbiamo detto In javascript Non esistono Però sostanzialmente Ragionare in termini Di oggetti O ragionare Direttamente In termini Di una funzione Se è una funzionalità Semplice La chiamiamo Una sola volta Non abbiamo necessità Di incapsulare Il tutto In un In un sistema Che Sostanzialmente Ci Ci consente Di riutilizzare Facilmente Il codice Da altre parti Quindi Non abbiamo la necessità Di creare un oggetto Con dei metodi Vabbè Chiamiamo una funzione E ci basterà Noi abbiamo suggerito In questo laboratorio Di creare Degli oggetti Con dei metodi Eccetera Perché Volevamo anche Fare un po' di pratica Con quello che abbiamo visto Perché poi Nel momento in cui Troviamo Class Eccetera Quando parleremo Per esempio Di React C'è da creare Un nuovo Componente Che è basato Sulle classi E così via Almeno abbiamo fatto Un po' di pratica Sulle classi Quindi Se le fate voi Le gestite voi Anche con poche proprietà E metodi Comunque riuscite a cominciare A rendervi conto Di come funzionano In javascript Così che quando Le andiamo a usare Poi non abbiamo più Diciamo Il timore Di non sapere bene Che cosa stiamo facendo Perché non abbiamo Sufficiente esperienza Quindi Diciamo che Sicuramente Guardo questa Soluzione Che come vi dicevo È parziale Però Ecco Sicuramente Farei Una classe Anche se in javascript Appunto Classi oggetto È un po' Così Però Possiamo cominciare A fare una classe Molto semplice Per i task Quindi il task È un oggetto Che in un linguaggio Di programmazione oggetti Avremmo creato Una classe E sarebbero Tutte istanze Della classe In javascript Sono tutti oggetti Però Se condividono Lo stesso prototype È meglio Perché nel momento In cui volessimo Aggiungere un metodo Possiamo fare Se vogliamo Possiamo avere Un task manager Va bene Che magari Ci dà I metodi Per dire Che Ci servono Per esempio Per fare i filtri Quindi Che so Tutti gli important Tutti Tutti quelli di oggi Eccetera Quindi È chiaramente Un approccio Di programmazione A oggetti Quindi Dobbiamo Dobbiamo Un po' Capire Che cosa Che cosa Fare Che cosa Ha senso Fare Non so Cosa Vi ha fatto In filter Ah Questo è più Collegato Alla Pagina web Perché Nel momento In cui Facciamo La parte Di programmazione Diciamo Javascript Quindi Che so Abbiamo la lista Di task Poi a un certo punto Da qualche parte Dobbiamo Farla vedere E quindi Dobbiamo passare A usare i metodi Del dome Andare a Mettere Togliere Creare Eccetera I nodi Così da avere La lista La lista Degli oggetti Visibili Quindi Qui nella parte Destra Avere poi I task Adesso questo Forse l'ho caricato Male Ho fatto delle Modifiche Adesso non funziona Più Quindi Come vi dicevo È parziale Quello che stiamo Vedendo Però come approccio Ci sta Tranquillamente Quindi Questo non è Come sempre Noi pubblicheremo Poi una Possibile Soluzione Abbiamo cercato Di usare Un po' Di Classi Oggetti Eccetera Per Diciamo Far vedere Come si potevano Utilizzare Nel nostro caso Però insomma Non Diciamo Si può usare Più 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 Approccio Oggetti O meno Approccio Oggetti Secondo Secondo La necessità Chiaramente È un po' Ripensare L'organizzazione Del codice Che avete scritto Questo Questo è chiaro Perché Diciamo Con gli oggetti Con la programmazione Oggetti Abbiamo un approccio Un po' Diverso Dobbiamo prima Pensare A quali sono Diciamo Le classi Che In Java Ho scritto Alla fine Il prototipo Con i suoi metodi E poi Andare A A A Implementarlo Se non ci sono Altre domande Potrebbe dare Una linea guida Sulla soluzione Del Lab 3 Andiamo a vederla Va bene Certo Non mi sembra Che ci siano Altre Domande Quindi Andiamo a vedere Lab 3 Quindi Io Andora Grandiamo un po' Facciamo Hide Spero che Vada via Sì Quindi GitHub Lab Clone Lab 3 Dunque Si chiamava Lab 3 Lo clono Così ho esattamente La vostra versione Lab 3 Javascript Browser Javascript Browser Dovrebbe bastare Sì Perfetto Lab 3 Ok Quindi adesso Ce l'abbiamo Direi che La cosa più Facile Forse Si Aprirlo con Visual Studio Code O meglio Poi ci Cancella Questo Proviamo A aprirlo Prima Col browser Quindi Quindi Ok Quindi Quindi In Lab 3 Ci Chiedeva Di rendere Dinamica La pagina HTML Quindi Avere un po' Di javascript Che Sostanzialmente Ci Consente Di Popolare La lista Dei task Sulla base Dei filtri Che andiamo a Cliccare Qui sulla sinistra Ok Quindi Lato Codice HTML E CSS Sostanzialmente Non c'è niente Di particolare Da andare a vedere Nel senso che È quello che Era stato fatto Prima L'idea Di Sviluppare Bene La parte HTML CSS È quella che È una volta che abbiamo Collocato Sulla pagina Tutto ciò che ci serve Tutto ciò che ci aspettiamo Che venga visualizzato Quindi anche elementi Che magari Cliccando Poi vengono visualizzati E magari iniziano Come nascosti E così via Poi sostanzialmente Questa parte HTML E CSS Non dobbiamo più Toccarla Quindi andiamo Sostanzialmente Dobbiamo guardare Solo il file Javascript Quindi questa visualizzazione Va bene Solo nel momento In cui lo vogliamo Diciamo Debuggare Per commentarlo In effetti Penso sia meglio Aprirlo Lo apriamo qui In visual studio Code Come Come singolo file Così non ci porta Via tutto Quindi vado a prendere Il js Che è Ecco Che è quello pubblicato Della soluzione Da Alberto Che lavora sull'altro corso In inglese Che però Ci fa la cortesia Di condividerci Tutto E quindi abbiamo Una Serie di task Iniziali Definiti come Oggetti Javascript Object literals Apriamo la graffa E scriviamo Tutti con le stesse Proprietà Mentre Nella soluzione Che vi stavo facendo Vedere prima Per esempio Avevamo il costruttore Che era un metodo Che potevamo usare Facendo new E quindi Già questa era Una prima differenza Però Diciamo Nel laboratorio Non era richiesto Quindi va bene Così Aveva una lista Di oggetti E poi Diciamo Dobbiamo un po' Decidere Come organizzare Il codice Nel senso Che Di nuovo Nel momento In cui Abbiamo Da realizzare I filtri Dobbiamo avere Delle funzioni Che ci consentano Diciamo Di capire Se Quello che Gli elementi Che compongono I task Quindi La data Piuttosto che I vari flag Eccetera Sono quelli che ci interessano Oppure no Quindi Studei Per confrontare la data Ecco Questo confronto Visto che non aveva Il moment JS E' stato fatto Confrontando Da Giorno Mese Anno Perché ci interessava Solo quello E non ci interessavano I secondi E' un po' Più complicato Farlo per la settimana Dopo Qui è stato fatto Con più sette Semplicemente Come per il Tomorrow Più uno Un attimo Machinoso Però Questo Diciamo E' una questione Di pura Programmazione Nel momento In cui C'è da creare Dei task E farli vedere Dobbiamo usare I metodi Diciamo Del Del DOM Quindi Qui E' stato usato Un metodo Abbastanza Diciamo così Manuale Nel senso che Ci siamo creati L'elemento Qui Era un elemento LI Quindi list item Perché così Era stata organizzata La pagina HTML E quindi Prima cosa E' stato creato List item Poi con i vari div Come avevamo deciso Di crearli Quindi con Le varie Proprietà Class Anzi Il valore Dell'attributo Class Che è quello Che gli da Lo stile Col Col CSS E L'input E tutto quanto Quindi di fatto Tutto questo codice Sostanzialmente Crea Il Nodo Nel DOM Che poi alla fine Verrà attaccato E quindi Visualizzato E poi a seconda Di Varie flag Che so Questa è la proprietà Project Adesso non ricordo più Task project Ah si Project Che se c'è Quindi If task project Vuol semplicemente dire Se c'è Quindi se è settata Allora mettiamo L'elemento Span Badge C'è Quell'iconina Che vi dice Il nome del progetto Poi la data To String Eccetera Eccetera Ecco All'inizio Visto che lo creiamo Possiamo già Colorarlo Quindi farlo Venire Rosso Oppure no A seconda Del fatto che Sia Già scaduto Oppure no Inutile mettere Poi una setta In mauta A parte Nel momento in cui Lo creiamo Tanto vale Verificarlo Nel momento in cui Invece Non è Diciamo È lì E deve diventare Rosso Per quanto suo Allora ha senso Usare una callback Che automaticamente Vada A Metterlo a posto Quindi a colorarlo Di rosso Nel momento in cui Scade Con l'attenzione Che dicevamo Sul Sullo slack Quindi Attenzione Che il set Timeout Prende un valore Massimo Di 32 bit Con segno Quindi sostanzialmente Non potete usare Scadenze di più di 20 giorni Ma È una cosa ragionevole Siete in una pagina web Questa pagina web Non è che Sta aperta Per più di 20 giorni Quindi Diciamo che Questa non appare Troppo una limitazione Potrebbe esserla più Sul server Nel momento in cui Usiamo node Sul server E così via Però Diciamo che Anche lì Forse allora Cioè se ci serve Una scadenza Oltre 20 giorni Magari È il caso Di pensare A un approccio Differente Rinnovare Questo timer E così via E poi ci sono Una serie di funzioni Quindi Che Che ci creano Tutti Tutti Tusk Questo prende Tasks E Tasks Dunque mi sembra Che fosse una variabile Che è stata messa Come Anzi più che Variabile Era un const Tasks Che quindi all'inizio Viene Viene Semplicemente Scorsa Con un for For const Task Of tasks E Quindi Usiamo le funzioni Che abbiamo creato Create task node La aggiungiamo L'append child È un metodo Del DOM Quindi sul node Nodo HTML E poi Ecco qui Viene impostata La set timeout Di scadenza Con la callback Che andrà a prendere L'elemento Per comodità Abbiamo Impostato Possiamo anche Tornare indietro A vederlo Un id apposta Su ogni task Che sarà poi L'id che In un'applicazione Seria Viverà fuori Da Un database Dal server In qualche maniera Che vi identifica Il vostro task Così che Possiamo Sia fare questo Get element by id Recuperarlo facilmente Così da Farci le modifiche Fondamentalmente Tramite La modifica Della classe L'aggiunta Di una classe Che so Qui Danger Penso che sia Background danger Sarà bootstrap Bootstrap È una serie di temi Predefiniti Danger Sarà rosso E quindi Hanno usato Danger Non perché ci sia Pericolo Ma semplicemente Perché Diciamo Un bootstrap È sinonimo Di qualcosa Di rosso Ok E quindi Qui Facciamo appunto Get time Meno now E va bene E questo è Set time out Clear tasks È stato implementato In questa maniera Sostanzialmente Rimuovendo tutto Azzerando il contenuto HTML Vi ricordate Che abbiamo detto Inner HTML E se lo impostiamo Del contenuto HTML Il browser Prende Parsifica Questo HTML E ci crea La struttura Del DOM Quindi l'albero Eccetera Nel momento In cui Lo rendiamo Una strega vuota È come Cancellare Tutto quanto In quel Nei figli Di quell'elemento Sul quale Andiamo ad operare Questa è la task list Che avrà un ID task list Ovviamente Se andiamo a prenderla Con Get element by ID Ok E poi Abbiamo Diciamo Tutta una serie Di Pezzi di codice Che Aggiungono le callback Sul click Sugli elementi Del filtro Quindi Su quelle parti A sinistra Che possiamo Cliccare Per Per far Attivare I filtri E Come funzionano Questi filtri O meglio Come abbiamo pensato Ha pensato Di farli funzionare In In questa soluzione Bene Aggiungiamo una classe Active Sul filtro Che tanto ci serve Perché vogliamo Colorare il filtro Nel momento in cui Clicchiamo Adesso provo a prendervi Anzi Era già aperta La soluzione Eccola qua Quindi chiudiamo il sotto Nel momento in cui Clicchiamo Il filtro si colora E il colore è dato Dal fatto che Abbiamo aggiunto La classe Col background Che nel codice È E' appunto Questo Active Qui Avevamo una soluzione Che faceva selezionare Un solo filtro Alla volta Quindi Di fatto Nel momento in cui Facciamo Add su una Togliamo Su tutte le altre Ok C'è anche un filter Quindi da qualche parte Dovrebbe esserci Qual è il filtro Ah si È questa cosa qua Che viene cambiata Quindi l'ultima riga Imposta questo Semplicemente la copia Dal nome Quindi Inner text All È del nome Del filtro Quello che viene riportato Appunto in cima E poi Qui l'approccio Che era stato usato Era Cancelliamo tutto E ricreiamo tutto Sulla base Dei filtri attivi Quindi E tutto quanto È stato Replicato Diciamo Per 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 i vari filtri Che Diciamo Qui È stato Forse Fatto Un po' Di copia e incolla Nel codice Non so Dirvi se è eccessivo O no Diciamo che Nel momento in cui Abbiamo tanti Elementi Che funzionano Sto funzionando A virtual classi Tanti elementi Che funzionano In maniera Del tutto Diversa Con i vari filtri O duplichiamo Un po' Di codice O se no Comunque dovremmo avere Un mega switch Da qualche parte Che ci dice Vabbè Qualcuno ha Cliccato All All Lo faccio attivo Qualcuno ha Cliccato Prossima settimana Lo faccio attivo E così via Con la logica Che decide Se togliere L'attivazione A tutti gli altri Oppure Farlo addizionale Come avevamo visto In un esempio Se non ricordo male Nelle slide Sembra di averlo fatto Che appunto Avevamo La possibilità Di fare il toggle E quindi il filtro Se era attivo Diventava disattivo E viceversa Poi alla fine Leggendo Le varie I valori Andando a cercare Se c'era l'active Sui vari filtri Di fatto Ci facevano La lista Dei filtri E poi Quello Doveva essere Preso Processato Per decidere Se I vari Task Rispettano La condizione Di tutti i filtri Intanto C'è un'altra Domanda Ok Dopo aver Eseguito Una Dopo aver eseguito Una callback Il valore Di dis Del dis Attributo Dell'oggetto Viene perso E restituisce Undefined C'è un modo Di recuperare Il dis Dis Attributo Dell'oggetto Viene perso Non è che capisca Tanto la domanda Diciamo che Nel momento In cui Adesso qui Non c'è un esempio Di questo tipo Andiamo a prendere Che so No Timeout No Diciamo che Adesso no Mi è tanto chiaro Perché vorrebbe Usare il dis Nel senso che Di solito Nelle callback Si usa L'event Target L'event Target E L'elemento L'elemento Nell'albero Del dom Sul quale E' stato scatenato L'evento Per esempio Quello Cliccato Se lei imposta Qualcosa Sul Sull'elemento No Tipo No Class List No Append No Com'era Ins Add Mi sembra Si Add Non so Selected Selected Questa cosa Resta Questa cosa Resta E lei deve Pensare che dovrà avere Un'altra parte di codice Che andrà a verificare Se è presente Questo valore Oppure no Per esempio In questo caso Non è stato fatto Sul target Perché non c'era bisogno O meglio E' stato fatto qui No Sul Class List Add No Solo che Diciamo Per una questione Di comodità di codice Non è stato scritto Con l'event target No Poteva anche scrivere Event.target Punto Class list Punto Add No Però poi Quando copiava il codice Dopo Gli veniva scomodo Perché quello che prima Era element target Doveva essere All E poi Questa cosa qua Nel momento in cui Crea tutti i task Deve essere verificata Cioè qualcuno Dovrà andare a vedere Qual è Il Il filtro attivo E quindi Andare a verificare Se c'è Su Che so Important L'attivo E così via Quindi Il modo Di recuperare Il dis Non lo capisco Tanto Se specifica Meglio O vuole parlare Non so Vuole provare A collegarsi Con la voce Quindi Tendenzialmente Si lavora appunto Con l'event target Che Quello Sul quale Diciamo Si Si può Operare Diciamo Sull'elemento Che ha creato L'evento E' vero Noi abbiamo fatto Anche tutto Un discorso Sul dis Oh ok Mi ha scritto Un po' di codice Ok Facciamo Uno Ok Quindi Facciamo solo Un nuovo File Facciamo Save Diciamo Test Js Devo salvarlo In js Perché così Mi evidenzia Un po' Il codice Fa Highlighting Metto un po' In ordine Ok Quindi lei dice Una function Create timeout 3 tasks Console.log Today Task for each Task If task deadline Let A Set timeout This Task expire Task time Ok Quindi mi esegue La funzione This Task 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 Spire Sì quindi Questo Visto che c'è Il this Immagino che sia Dentro Un Quindi Non è stato Chiare In console Error Copio anche Questo Per i suoi Colleghi Quindi Dice che le da Devo fare Quindi Dice che le da Uncout Type Error This Find Task Find Task Is not a function Dunque Questo Chiaramente Funziona Come 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 diceva Il vostro Collega Sulla chat Che Deve Sare dentro Una classe Sennò Il this Chiaramente Non funziona No Però Dovrebbe Dovrebbe Funzionare This Find Task Id Id L'id E' quello Che viene Passato Alla callback Perché Nel momento In cui Facciamo Il site Timeout Dobbiamo Dare La callback Lo dico Per tutti Il tempo E poi Eventuali parametri Da passare Alla callback Quindi Questo Task Id Finisce Qui La callback La callback Dovrebbe Prendere Dunque Il this Però Per le funzioni Le funzioni Iscritte In questa Maniera E Dipende Dal punto In cui Viene Chiamata La funzione Probabilmente Allì fuori Della classe Diamo Che sia Questo Dovrebbe Provare A riscrivere La tax Aspire Come arrow Function Perché Nell'arrow Function Il this Funzione Diversamente Nell'arrow Function Il this Viene preso Dallo Scopio Esterno Che Che è Lo scope Se questo Era dentro Una classe Il this Dovrebbe Riferirsi Correttamente Alla classe Quindi Mi ha scritto Ancora Function Function Task 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 Map Dunque Io Non dubito Che questa Funzione Funzione No Però Il problema È qui Nel senso Che Credo Che L'errore Le venga Fuori A questa Linea Qua Secondo Me Bisognerebbe Provare Almeno Da quanto Eh sì L'arrow Function Dovrebbe Riscriverla Come Arrow Function Quindi Sostanzialmente Id Freccia E poi Metterci Quindi Al posto Di This Task Aspire Tutto Il codice Di quello Che è Sotto Chiaramente Non abbiamo La possibilità Di provarlo Però Dunque Com'è Che si Fa La Graffa Qui Aprire Una Graffa E Prendere E mettere Questo Lì No Adesso Formattandola Un po' Meglio Quindi Provi un po' A Eseguire Queste cose Qua Come Arrow Function Secondo me Dovrebbe Funzionare Almeno Per il Pizzetto Di codice Che Vedo Adesso Che Intuisco Perché Non è Solo Una Questione Di Comodità Di Lettura Con Il Dis Cambia Il Significato Del Dis In Questo Caso Viene Preso Da Fuori E Siccome Dentro Una Funzione Che Sostanzialmente Un Metodo Di Una Classe Dovrebbe Prenderle La Classe Quindi Trovarle L'altra Funzione Se Invece La Mette Come Callback E Pura Da Richiamare Temo Che Il Dis Non Abbia Il Valore Ok Buongiorno Professore Una Demanda Riguardante La Classe Active Nei Filtri Quindi Allora Copiamo Quindi Una Demanda Riguardante La Classe Active Nei Filtri Oltre Vi Iniziare A Un Button Utilizzato Per Ultimo Serve Anche Per Attivare Disattivare Nel Caso Si Rimuove Active Dalla Lista Di Classi Quel Filtro Serve Solo A livello Grafico Lo Chiedo Perché Pur Non Usandolo Nel Codice Funzionano Correttamente Senza Che Le Vario Views Si Sovrappongano No Allora Dunque Questo Active È Una Classe Di Bootstrap E Quindi Di Fatto Ha Un Effetto Grafico Ma Non È Che Attiva Niente Perché Se Voi Non collegate Niente Nel Vostro Non usate Nel vostro JavaScript Code Questa Classe Active Non succede Niente Nel senso Che L'unica cosa Che succede Che si Colora Il motivo Il motivo Per cui Funziona Nell'applicazione È Che Nel momento In cui Clicchiamo Mettiamo Active E L'abbiamo Fatta Colorare Ma Collegata A questo Click C'è Tutta Un'azione Che Viene Svolta No E Quell'azione È Quella Di Andare A Capire Qual È Il Filtro Che È Stato Cliccato E Agire Di conseguenza Sulla lista Dei filtri Poi In più Diciamo Che Nel momento In cui Impostiamo Dei valori Nell'albero Del DOM Questi Restano Lì Come se Li avessimo Impostati In un'altra Struttura Dati E quindi Li possiamo Anche Usare Come Diciamo Dei Un Posto Per immagazzinare Il fatto Che il filtro È attivo Oppure No Senza Crearci Una seconda Struttura No In javascript Dove Abbiamo Che So La lista Dei filtri È un valore Boolean True False Per dire Se il filtro È attivo Oppure No Perché Perché Semplicemente Sappiamo Dov'è La lista Dei filtri Sappiamo Che Se C'è Nella lista Delle Classi Active Il filtro Attivo Oppure No Ce lo ricordo Il fatto Che sia presente La classe Active Sul Nodo Nel DOM Che corrisponde Al filtro Punto Quindi Questo è un modo Che si usa spesso Di procedere Per memorizzare Le informazioni Qualcosa viene Viene Diciamo Memorizzato Memorizzato Direttamente Nel DOM Magari pure Sotto forma Di classe Che quindi Ha il doppio effetto Da un lato Ha la Possibilità Di visualizzare L'utente Che è effettivamente Che so il filtro Attivo E dall'altra Ha la possibilità Di mantenere L'informazione Quindi se c'è bisogno Da codice Lo andiamo a leggere E quindi Nel codice Questo Active Da qualche parte Sarà letto Quindi Active Dobbiamo tornare Più su No in realtà Forse in questo codice L'ha fatto Con 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 Il filter title Però diciamo Che Dobbiamo decidere Dove teniamo L'informazione Duplicare L'informazione Non è mai Una Una cosa Diciamo Dov'è che l'ha fatto Non è mai Una cosa Bella Da fare Nel Nel codice Perché poi Abbiamo due posti Da gestire Quindi Create No Da qualche parte Deve aver fatto Quest'operazione Che l'ha fatto clear tasks create all tasks ah, lì, sì, giustamente l'ho fatto ogni volta quindi in realtà qui non ci serve andare a mantenere l'informazione perché stavo guardando quella dell'all, chiaramente l'all è bella che è risolta con all e se no si è fatto il for e diciamo che il filtro lo ha fatto direttamente nella callback quindi qui diciamo in questo codice serve solo per una questione di visualizzazione però diciamo nel momento in cui avete la possibilità di selezionare più filtri contemporaneamente da qualche parte dovete andare a capire se gli altri filtri sono attivi per esempio potreste avere un'unica un'unica callback quindi un click magari lo fate sull'elemento padre di questa lista di filtri ricavate quale è stato cliccato da event.target .id che avrà appunto un id che è il nome del filtro se vi serve più che altro vi serve per farlo diventare active quindi per aggiungergli la classe active e poi vi andate a scorrere tutta la lista dei filtri e andate a vedere quale è active e vi fate una lista dei filtri attivi e poi fate un for for of che sulla base dei filtri attivi decide se mettere o no il vostro il vostro task l'alternativa è fare il for sui filtri e mano a mano filtrare di nuovo la lista dei task e nel momento in cui avete finito il giro sui filtri diciamo pubblicare i task quindi avere una seconda lista un secondo array di tasks e nel momento in cui avete determinato quali sono quelli da visualizzare avere poi una funzione che li prende e li mette nel 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 dom e quindi effettivamente li fa visualizzare bene il vostro collega dice che con le arrow function funziona quindi vi facciamo che abbiamo capito il motivo per cui abbiamo fatto mezz'ora di slide e lezione sul dis perché il dis è un po' impestato se volete da questo punto di vista quindi è utile ma bisogna sapere come funziona quindi prendiamo l'ultima domanda che differenza c'è nel gestire la sidebar verticale arriva facciamo copia che differenza c'è nel gestire la sidebar verticale con tag nav e classi quindi nav flexcolumn navlink e come implementato nella soluzione tag aside e classi listgroup listgroupitem secondo me è nessuna nel senso che diciamo che forse volendo proprio fare i fini dal punto di vista semantico un nav mi piace di più usato come barra di navigazione è una barra di navigazione non è una barra diciamo di funzionalità dell'applicazione però è proprio una questione di finezza nel senso adesso questo è un sito estremamente semplice però che so ci fosse una qui a destra o da qualche altra parte una una barra dove dove ho che so vai sulla tua posta email vai sui tuoi task vai sui tuoi non lo so che altro puoi avere sui tuoi reminder sul tuo calendario e così via beh mi piacerebbe di più che fosse una nav quindi una barra di navigazione questa è vero che alla fine ci fa un po' navigare nell'applicazione ma tutto quello che facciamo ci farà navigare e quindi forse questo è il motivo per cui è più bello però solamente dal punto di vista concettuale farlo con un aside quindi è un diciamo un elemento posto lateralmente che ci consente di fare delle azioni aside però dal punto di vista funzionale non cambia assolutamente niente nel senso che appunto se voi l'aveste chiamato nav al posto di aside funzionava uguale perché tanto sappiamo che poi questi questi elementi ecco qui il nav l'hanno usato in cima nav in effetti ecco non ne metterei due di nav questo si se non mi ricordo che il nav era usato in cima però nel momento in cui ne avete uno forse forse basta no perché il nav è l'elemento che ci consente di navigare nelle varie funzionalità dell'applicazione ma non di usare le funzionalità usare le funzionalità ci saranno dei controlli specifici per esempio in questo caso veniva bene questo aside nel senso che era una cosa abbastanza grossa che è questa che contiene i filtri sulla sinistra e che diciamo ha bisogno del suo spazio e viene imposta diciamo in un angolo della nostra finestra di visualizzazione poi è chiaro che se usiamo l'uno o l'altro dobbiamo poi fare attenzione nel codice a usare i nomi corretti se andiamo a usare un selettore quindi a prendere l'elemento tramite il selettore non tramite l'id e così via però diciamo il modo in cui viene visualizzata posizionata sullo schermo quindi nella finestra di visualizzazione e così via è interamente controllata dalle classi che assegniamo tramite le classi di bootstrap quindi possiamo voglio dire adesso lo dico così però avremmo potuto anche chiamarlo article non ha senso semanticamente però diciamo se assegniamo le classi corrette la facciamo comportare come vogliamo noi la differenza tra nave e aside è un po' più fine però sostanzialmente diciamo che vabbè non vorrei dire accettabile nel senso che visto che ho detto che secondo me essi dovremmo usare aside è meglio usare aside dal punto di vista semantico però diciamo che non è proprio come usare un article l'article è per un content è per un contenuto e questi invece sono funzionalità quindi quantomeno dei link ecco se li volessimo chiamare link forse potremmo chiamare la navigazione una navigazione all'interno dei task cioè è molto più questionabile e diciamo è più difendibile no che questi questi filtri siano alla fine dei link che ci permettono di navigare nella nostra applicazione alla fine l'applicazione non fa nient'altro in questo momento quindi la differenza è veramente sottile no ok bisogna ecco solo fare attenzione io adesso ho forse esagerato dicendo potevamo usare article funzionava tutto uguale magari conoscendo la semantica di questi tag per dire bootstrap o altri framework evitano di assegnare certi comportamenti a certi tag che hanno una semantica diversa cioè in un article non mi aspetto che ci siano delle liste cliccabili no magari in un nav si e in una side si e quindi bisogna vedere anche un po' che cosa ci offre il diciamo il framework che stiamo usando no perché è inutile andare contro il framework come molti alcuni diciamo vogliono cambio il colore cambio il font cambio diciamo che il framework ci fornisce una soluzione preconfezionata coerente ben fatta ben studiata per sistemare tutta una questione di interfaccia e quindi vogliamo cercare di modificarla almeno possibile adesso volevamo la checkbook rossa va bene ci siamo fissati sulla checkbook rossa l'abbiamo fatta diventare rossa e poteva avere un senso però ecco diciamo stravolgere il tema non è mai una grande idea anche perché sono tante cose interdipendenti all'interno del framework che diciamo se c'è un qualcosa che è realizzato con con la semantica che noi vogliamo usiamo quello poi per carità tutto si può fare se ecco avevo aperto giusto boostrap mentre aspettavo di iniziare la lezione e da qualche parte diciamo c'è anche tutto il meccanismo per diciamo fare delle modifiche a monte per esempio che so cambiare il colore di default che è stato usato da qualche parte e quindi di fatto andare a rigenerare tutto il css tutto quanto il boostrap che quindi diventerà un nostro boostrap customizzato che quindi dobbiamo far caricare dal nostro server non più dalla cdn come stiamo facendo adesso cioè da un server in giro per la rete che ha la versione standard di boostrap e certo si può fare tutto però diciamo noi non ci stiamo focalizzando sull'aspetto dell'interfaccia e anzi cioè della customizzazione dell'interfaccia del cambiamento del tema dello studio degli elementi della user interface e quindi cerchiamo di usare quello che è già pronto così com'è il più possibile perché è già stato studiato da qualcun altro e studiato solitamente bene adesso c'è boostrap ma ce ne ce ne sono anche degli altri ne abbiamo preso uno perché abbiamo bisogno di uno per far vedere qualcosa ok se ci sono dubbi domande in particolare anche sulle lezioni va benissimo parlare del laboratorio che giustamente è uno degli aspetti importanti perché dobbiamo imparare a creare qualcosa quindi un'applicazione quindi scrivere del codice quindi è chiaro che bisogna far pratica però se anche ci sono degli aspetti teorici che non sono chiari nel senso appunto che questo dei moduli oppure l'ereditarietà tra i prototipi eccetera che non è banale nel senso che appunto javascript ha un modello un po' più che particolare verrebbe quasi da dire unico per realizzare l'ereditarietà cioè ha le istanze collegate tra loro sostanzialmente non esiste il concetto di classe il classe l'hanno inserito dopo perché viene comodo pensare in termini classe ma di fatto c'è un oggetto prototipo non c'è un template immutabile da cui si creano le istanze come negli altri linguaggi oggetti per cui mi aspetto che ci sia qualcosa che non vi è del tutto chiaro che spiegarlo non è facile e quindi magari c'è qualcosa che si può chiarire abbiamo parlato di cosa abbiamo fatto sa che c'è qualche cosa sui forms il disk un po' l'abbiamo affrontato la programmazione funzionale che diciamo per quel poco che abbiamo visto è un po' diversa ma forse ancora abbastanza comprensibile l'abbiamo vista perché fondamentalmente se ne farà un po' uso soprattutto in react perché molti esempi molti molte pezzette di codice che trovate in giro la usano quindi bisogna conoscere ecco il vostro collega già diciamo un po' l'ha fatto task for each quindi for each e quel metodo di cui abbiamo parlato la programmazione funzionale che prende una callback e che è questa arrow function tra l'altro mi ha confermato che effettivamente con la arrow function funziona per cui dovremmo aver risolto il problema del disk ok c'è una domanda adesso mi copio dice io non ho ben chiaro la gestione delle funzioni asincrone se ad esempio ho due funzioni asincrone per fare in modo che voglio eseguirne prima una e poi l'altra devo necessariamente usare async e await e si se vuole diciamo fare in modo che solamente al termine dell'esecuzione la prima funzione si esegua la seconda e sono funzioni asincrone cioè posso scriverci await davanti cioè ritornano delle promise si la cosa più semplice è usare async await perché scriviamo come codice diciamo procedurale no andiamo a vedere l'esempio quindi prendo le slide function async promises ok quindi oppla perché va avanti così quindi se c'è un esempio col fetch sarebbe adesso l'ho detto a voce dell'esempio però forse non avevamo questo esempio strano perché da qualche parte me lo ricordavo ecco questo questo è il modo diciamo di usare due funzioni asincrone e farne eseguire prima una e poi l'altra quindi questo era async l'abbiamo poi corretto sulle slide io non ho più scaricato la versione giusta quindi async function che poi chiameremo per usarla bene facciamo qualcosa che richiede diciamo un meccanismo asincrono in get issue se vogliamo attendere che abbia finito ci mettiamo await avanti e il suo valore di ritorno ce lo prendiamo come sempre e poi vogliamo fare una seconda cosa la facciamo con await senza await in questo caso se è asincrona faremo await e ci facciamo tornare il valore e poi vogliamo fare una terza cosa ci mettiamo di nuovo await e così via queste vengono eseguite l'una dopo l'altra quindi fino a che non ha finito la get issue non andiamo a fare la get owner fino a che non ha finito la get owner non andiamo a fare send mail questa è la cosa più semplice quindi await 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 la wait diciamo che blocca blocca fino a che la funzione non ha finito deve essere una funzione particolare nel senso che deve essere una funzione asincrona cioè una funzione che ritorna una promise e la otteniamo perché la funzione o l'abbiamo già scritta che ritorna le promise noi oppure l'abbiamo scritto con la asinc davanti non è l'unico modo solo per concludere il discorso perché ah ecco questa questa è ancora più evidente aspettiamo di aver caricato user json altrimenti non possiamo andare avanti aspettiamo che venga passificato col json aspettiamo di caricare la seconda risorsa e così via il codice è molto lineare e semplice c'è sempre await 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 e queste sono aspettano non è l'unico modo perché possiamo anche mettere le cose dentro il den ma il codice si complica un po' nel senso che possiamo fare come facevamo qui den den e allora se concateniamo i den ogni den ci blocca no solo che come codice è un pochino meno chiaro all'altro è molto semplice await 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 sono statement una riga una riga invece qui sono tutte funzioni concatenate bisogna pensare di più che cosa sta succedendo no e poi bisogna sempre fare attenzione che siano funzioni che ci ritornano delle promise se non lo sono dobbiamo farlo noi e tutte queste faccende poi abbiamo detto che in realtà quando usiamo col den è come se ritornasse una promise comunque fare le cose in maniera sequenziale è la cosa più semplice la cosa più difficile era farle in parallelo no quando avevamo l'esempio ecco in parallelo allora dobbiamo trafficare di più perché c'è promisol eccetera ok nel lab 4 non mi è chiara l'utilità di creare oggetti come app e filter no in realtà non è non è obbligatorio no appunto nel lab gli lab sono semplici quindi in realtà in realtà è fin troppo creare forse un oggetto app e un oggetto filter diciamo che per fare un po' di pratica cerchiamo di rendere oggetto in tutto quello che è possibile anche perché poi in un progetto complesso nel momento in cui andremo dentro react ci sono i componenti i componenti sono delle classi e lavoreremo sempre con delle classi i nodi diventeranno dei componenti che avranno quindi delle loro proprietà dei loro metodi avranno uno stato eccetera e quindi se prendiamo un po' di familiarità con questo approccio a oggetti la familiarità con l'approccio ce l'avete già diciamo in javascript la familiarità con l'approccio oggetti classi eccetera diciamo facciamo un po' di pratica utile per il futuro però non c'è come dice lei nessuna necessità di fare un oggetto app con un costruttore sostanzialmente che faccia tutto potremmo tranquillamente avere una normalissima funzione e chiamarla e fine l'utilità di avere una funzione invece è un po' diversa nel senso che come sapete la funzione crea uno scope e quindi se noi ci vogliamo appunto mantenere qualcosa dentro che non rimane visibile ad altro codice che eventualmente carichiamo questo questo sì questo questo vi conviene farlo ed è un po' più evidente perché avere un unico oggetto con un unico costruttore cioè un oggetto unico per l'applicazione con solo il costruttore che fa tutto è in effetti diciamo è per far pratica scrivere un oggetto con un costruttore però possiamo possiamo farne meno ecco come come l'oggetto filter nel senso se viene comodo sì se invece è una complicazione basta insomma bisogna bisogna un po' valutare questo questo è da valutare un po' da parte di chi programma non è che sempre ci sia ci sono anche degli stili di programmazione più preferiti meno preferiti anche dal programmatore stesso ecco ok c'è un feedback quindi più che una domanda è un suggerimento e questo in effetti la teoria è spiegata bene ma manca una parte pratica nel corso per prepararci in modo più completo ai laboratori e questo secondo me è vero e ce ne stiamo rendendo conto abbiamo avuto una discussione una colla ieri anche con l'altro corso e con tutti quelli che stanno collaborando al corso quindi con il professor corno Luigi eccetera e adesso cerchiamo diciamo di avere un approccio un pochino più più pratico effettivamente alla dopo aver fatto un po' di teoria vogliamo far vedere in pratica come si fanno le cose quindi mi rendo conto ci rendiamo conto anzi del fatto che forse è un po' mancato fino a questo momento il fatto che siamo a distanza chiaramente non aiuta perché appunto lo scopriamo solo magari dopo un po' con queste sessioni interattive che tra l'altro hanno proprio lo scopo di darci qualche feedback e quindi benvenute tutti questi commenti che diciamo ci fanno capire un po' meglio la situazione però è vero per esempio se andiamo a vedere su quindi giustamente l'esempio sull'uso dei moduli effettivamente è una cosa che si diciamo dalle slide è chiaro poi in pratica apro Visual Studio Code cosa scrivo apro il browser e che cosa ci scrivo dentro per caricare un modulo e come faccio a caricare il modulo se mi avete detto che non si può e devo scaricarmelo e si far vedere effettivamente potrebbe potrebbe aiutare è vero che c'è scritto nel testo del laboratorio di scaricarlo però provate anche se siete su Slack ho visto che ci sono cento e passi iscritti quindi su Slack insomma nel limite del possibile cerchiamo cerco cerchiamo io e Luigi di rispondere diciamo a eventuali dubbi domande quindi se avete un problema diciamo che vi blocca proprio tanto insomma scrivete cerchiamo di darvi una mano al di fuori diciamo dell'orario del corso di queste sessioni diciamo che che devono servire appunto a fare le domande che non avete la possibilità di fare con le lezioni registrate quindi adesso cerchiamo di tenerne conto penso che andremo comunque verso una situazione che da questo punto di vista migliora perché come ne parlavamo ieri nel momento in cui adesso non questa settimana ma quella dopo inizieremo react ma anche la prossima settimana facendo un po' di express avendo il server web eccetera ci siamo dati come obiettivo quello di diciamo di spiegare un po' di cose però poi di farle vedere in pratica e quindi effettivamente nel momento in cui uno le vede funzionare può provare a replicare la stessa cosa ed è diverso dal solo aver sentito di questo pezzetto di codice no e poi lo provo lo incolla e non va non so cosa fare ma perché non si carica il modulo e tutte queste cose quindi grazie per il feedback sperabilmente diciamo siamo sulla strada per migliorare da questo punto di vista ok ok per migliorare abbiamo ancora qualche minuto non vogliamo neanche esagerare con queste sessioni però mi sembra che siano abbastanza utili per lo meno per chi si collega spero che qualche chiarimento lo riceva e quindi diciamo se ci sono dubbi o domande volentieri rispondiamo e come dicevamo sono opzionali nel senso che non spieghiamo nulla di nuovo come avete visto forse si e diciamo che avere qualche dritta ma come in tutti i casi è sempre utile potrebbe essere l'equivalente di quei 5-10 minuti in cui magari qualcuno a fine corso o a inizio corso in presenza fa domande e ha qualche indicazione in più rispetto ad altri ecco quindi non vogliamo farlo diventare un'occasione troppo ufficiale perché sennò poi diventa un corso da 8 credit anziché da 6 ecco anche per noi diciamo è il primo anno in cui il corso viene erogato e quindi chiaro che diciamo cerchiamo di farlo bene il più possibile però è chiaro che ci servirà un minimo di feedback da parte vostra da parte degli studenti per eventualmente riuscire a migliorare poi per l'anno successivo che a voi non diciamo interesserà poco però appunto mano a mano che abbiamo dei feedback se ci arrivano per tempo come in questo caso cerchiamo di di integrarli nello svolgimento e nella creazione delle prossime lezioni ecco adesso non dobbiamo necessariamente passare ad aspettare un'ora e trenta esatta vi dico quindi per domani il laboratorio funziona come sempre e abbiamo tengo sempre aggiornata la pagina ecco c'è già il link per domani 17 questo funziona come sempre e poi avremo il laboratorio del 24 e poi abbiamo pensato di anticipare il laboratorio che cadrebbe il primo maggio al 30 aprile quindi non ci sarà diciamo la sessione video chat del 30 aprile o meglio ci sarà ma sarà il laboratorio quindi non sarà come qui che non svolgiamo un laboratorio ma ci sarà da svolgere il laboratorio e questo perché diciamo riteniamo di fare diciamo due laboratori un po' più forse semplici rispetto a quello che pensavamo di fare inizialmente ma di non saltarlo perché speriamo diciamo che appunto dia l'occasione di fare un po' più di pratica diciamo con quello che vediamo a lezione e ovviamente essendo un laboratorio abbiamo la possibilità di aiutarvi in caso di necessità quindi domani il laboratorio 4 ci sono già i link sul solito zoom per per il laboratorio quindi direi che se non ci sono altre domande possiamo fermarci qui quindi come sempre avrete la registrazione su youtube appena riesco a caricarla ma diciamo nella prossima mezz'ora ora dovrei riuscirci e e c'è anche la registrazione sul virtual classroom che però dovrebbe essere praticamente identica l'unica cosa che avete la chat che però avendo copiato le domande dovrebbe essere sostanzialmente quasi equivalente va bene grazie e allora con me ci vediamo dalle 10 alle 11 e 30 e con luigi dalle 8 e 30 alle 10 vedete voi come collegarvi nel senso noi abbiamo fatto questa divisione in squadre chiaramente è tempo a disposizione dei docenti vedete di usarlo al meglio come nel laboratorio se volete venire anche entrambe le squadre potete farlo nel senso non c'è nulla di male nel farlo sta a voi diciamo visto che comunque ci sono relativamente pochi studenti in questi laboratori virtuali se avete necessità avete domande anche richieste dichiaramenti eccetera non fatevi problemi entrare in una squadra piuttosto che nell'altra va bene grazie e a domani grazie 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 a tutti grazie a tutti